e ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi ho trovato una cosa bellissima su aliexpress mi sistemo un attimo il microfono ragazzi e allora guarda qui cosa ho trovato in poche parole è da qualche giorno che sto un po concludendo le mie valutazioni sul palco batterie di accumulo ragazzi su aliexpress ci sono tantissime offerte tantissimi prodotti ci sono i fecchi ci sono i buoni ci sono qualsiasi cosa perché ovviamente un mercato enorme e il mercato appunto fatto da per la maggior parte ragazzi sono produttori e comunque andiamo a vedere queste batterie sono batterie lì feppi o 4 3,2 volt 320 ampere ora ragazzi le più grandi in assoluto attualmente grado a perciò ti dicono che sono di buona qualità e si possono andare ad acquistare due pezzi 4 pezzi 8 pezzi 12 pezzi 16 pezzi ecco per il mio progetto un 48 volt ho bisogno di almeno 16 pezzi ok se volessi visto il prezzo perché ragazzi questo è il problema guarda qui 32 celle 320 ampere ora vengono 1726 euro e qui hanno messo invece di 2.465 meno 30 per cento e in più spedizione gratuita in italia ovviamente non è la spedizione espressa non è il corriere veloce sarà una spedizione 20 30 giorni ma chi se ne frega cioè se io davvero con 1700 euro riesco a prendere 32 pezzi ragazzi ma hai idea di cosa vuol dire andiamo a prendere la calcolatrice ti faccio vedere faccio sono 640 640 ampere ora in tutto se vai a mettere due paralleli e due paralleli da 16 però aumentare ancora di più la capacità andiamo a fare 48 tipico per 640 ragazzi con la modica cifra di 1726 euro potremmo se fosse tutto reale perché ancora ecco non l'ho capito il video nasce per questo per avere vostri vostre valutazioni vostre esperienze in merito 30 kilowatt di accumulo ragazzi ma ma è mai possibile ma secondo voi questo prezzo è un prezzo reale ragazzi cioè io non lo so io vorrei organizzare perché appunto ragazzi se sono soldi che uno va a perdere onestamente in questo momento a me pesa perdere questa cifra cioè io potrei anche ordinarli ok però se poi non mi inviano nulla se mi fregano i soldi ecco perché non organizziamo un bell'ordine ragazzi cumulativo di gruppo dove voi mi aiutate economicamente ad acquistarli e all'arrivo della merce io vi farò sapere se sono o non sono pacchi batterie reali solo non sono batterie reali perché ragazzi se questo venditore realmente vende a questo prezzo che poi su questa inserzione non ha feedback eccolo qua qua zero feedback però negli altri per esempio in questa i feedback c'è la 1169 venduti cioè è questo si ferma a 16 pezzi ok guarda 16 pezzi 1100 euro ma ci sono 24 recensioni quasi tutte positive attenzione 1146 ordini ok possibile mai che sono tutti i feedback e ordini falsi possibile meglio una truffa belle buona io questo ragazzi non lo so pensate anche voi potenzialmente ad acquistare queste batterie perché ragazzi il prezzo è eccezionale considerando anche la spedizione gratuita che solitamente la fanno pagare 3 400 euro che oltre che sono prodotti pericolosi infiammabili eccetera eccetera ma sono anche grandi e pesanti ok vorrei che partecipiate tutti anche ragazzi con 3 euro con 4 euro con 5 euro dobbiamo arrivare a fare questa bella somma se arriviamo a 1100 euro io prendo questo ma se arriviamo ragazzi a dalmeno 1700 euro io vado a prendere l'altro che era questo vado a prendere l'altro che era questo ragazzi ma è un prezzaccio un prezzaccio ragazzi io dal momento in cui arrivo la merce ok io andrò a fare il video test recensione così tutti possiate andare ad acquistare in massa perché se davvero è un prodotto valente è un venditore serio non è una truffa ragazzi a chi aspettiamo però dobbiamo prima saperlo ecco perciò se vuoi partecipare sotto ti lascio il link a paypal e lascia un qualsiasi cosa ecco te l'ho detto 3 euro 4 euro 10 euro 20 euro 50 euro prima arriviamo a questa somma prima ragazzi posso provare ad acquistare se i prodotti arrivano sono buoni utilizzabili io vi mando i soldi indietro ok cioè se mi ha inviato 10 euro io rigirerò 10 euro indietro e io ovviamente mi tengo le batterie ok fate invia denaro a familiari amici come tale non ci saranno le tasse ok di paypal così se io vi devo rimborsare sappiate che vi rimborserò solo se fate denaro a invio a familiari amici perché in quel modo se fate un invio standard ragazzi io ci vado a perdere qui in sovrimpressione vi lascio l'indirizzo email dove inviare questi soldi tramite paypal e quando andate sul vostro conto selezionate invia denaro a familiari e amici inserite la somma che volete inviarmi per acquistare appunto questi e poi in più vi dico anche che